Ci stiamo familiarizzando con il momento della qualità di voto e per esemplificarlo sto usando il pendolo semplice questo sia il soffitto dalla quale pende il vostro corpo materiale che sia piccolo, quindi lo consideriamo puntiforme nel senso che le sue dimensioni sono piccole rispetto alla lunghezza del filo il filo è ideale, cosa vuol dire? che è di massa tasturabile rispetto alla massa di questo corpo ed è inestensibile, quindi c'è una unica posizione quando voi siete in un campo gravitazionale che lo farebbe se il corpo è lungo la verticale, cioè il filo è lungo la verticale in direzione lungo il quale i corpi cadono c'è una unica posizione di corpo, cioè se la mettete lungo la verticale è l'unica posizione che se la tenete ferma con la mano quindi la velocità è zero e lasciate la presa senza imprimere una forza impulsiva quindi senza che il corpo acquisti velocità, cioè rimanga fermo quando lasciate la presa il corpo rimane lì qualsiasi altra posizione, questo non succederà allora siccome il filo è inestensibile la traiettaria del filo sarà un arco di cerchio ok, adesso provo a disegnare un arco di cerchio decente sarà un arco di cerchio di raggio r ok, e r quindi è la lunghezza del filo r è la lunghezza del filo qualsiasi altra posizione non ha la caratteristica che vi ho appena raccontato cioè se voi tenete fermo il corpo e lasciate la presa senza impartirgli alcuna velocità il corpo non sta fermo, se lo portate qua non starà fermo l'unica posizione dove rimarrà fermo quando voi lasciate la presa è questa qua cominceremo a chiamare e usare una nuova parola per esempio quella posizione di equilibrio poi diremo meglio cos'è equilibrio siamo tra amici, per ora voglio introdurre i concetti in maniera rilassata non con definizioni definizioni hanno senso quando uno ha già l'occhiare e sta solo cercando di trovare un modo molto snello di riassumere un sacco di esperienze ecco dove le definizioni sono almeno questo è il mio parere avrò tolto ma sono ridocente allora questa direzione è molto speciale che è la direzione chiamata verticale prendiamo nota di quella direzione qualsiasi altra posizione ha un angolo da questa direzione speciale allora voglio usare le coordinate cartesiane e le voglio orientare in modo che riuscite a ritrovare tutto quello che abbiamo fatto sul moto circolare perchè in fondo questo è un moto circolare non è uniforme ma è un moto circolare quindi voglio riciclare quello che abbiamo fatto sul moto circolare per far questo chiamo questa l'asse x questa l'asse y e l'asse z che direzione ha? uscete ok? chiamo questa è la direzione x quindi la z esce che stiamo usando la mano destra chiamo questo punto qua il punto d'attacco del filo lo chiamo l'origine il moto che sarà il moto lungo questa traiettoria circolare un arco di circolo avviene nel piano siccome l'origine è nel piano è chiaro che tutto il moto avrà z uguale a 0 quindi la z in questo esercizio le coordinate z saranno tutte a 0 rimane nel piano d'accordo? allora come misuravamo gli angoli nel moto circolare uniforme? se questo era il vecchio disegno e questo era una traiettoria circolare misuravamo gli angoli a partire dall'asse x quindi stiamo misurando l'angolo in questo modo d'accordo? questo è l'angolo un angolo che è di qua quando il punto si trova qui il suo angolo è questo è questo l'angolo questo qui che è un modo equivalente di descrivere la posizione di questa è un angolo negativo ok? quindi quando il corpo è a destra della verticale avrà angoli positivi quando è a sinistra avrà angoli negativi ok? cioè misureremo pure con angoli negativi l'importante è che voi capiate la convenzione va bene allora qual è il vettore posizione? è uguale a x u di x più y u di y chi è la x? la x è come dovreste ricordare sto riciclando quello che ho fatto col moto circolare ormai settimane fa nella misura in cui questo angolo qui dipende dal tempo perchè avete mollato la presa e quindi questo sistema si chiama un pendolo semplice questo non è un pendolo semplice dove questo è un punto sì piccolo rispetto alla distanza ma invece di usare un filo ideale usate una catena perchè non è un pendolo semplice? perchè il filo non ha più massa avvascurabile questo non è un pendolo semplice perchè il filo, questa è una molla non è più inestensibile questo non è un pendolo semplice un filo ideale ma con qua giù magari una racchetta da tennis perchè? perchè le dimensioni dell'oggetto attaccato al filo non sono più trascurabili d'accordo? quindi mi raccomando questo è un pendolo semplice cosa vuol dire? che l'oggetto attaccato ha dimensioni piccole quindi diciamo con linguaggio matematico uno direbbe che è un punto materiale e l'altro che è il filo inestensibile è di massa trascurabile rispetto a lui nell'ipotesi che l'angolo va in tempo io posso calcolare e quindi disegnare la velocità scusatemi la velocità cos'è? è la derivata di questo e quindi cosa fate? allora userò la notazione che ve l'avevi raccontato l'altro giorno se avete una grandezza che dipende dal tempo e vi interessa la derivata perchè le cose che cambiano il tempo volete sapere cambiano veramente? o la derivata è zero e non cambia? aumenta? derivata positiva? diminuisce? derivata negativa? la derivata è grande? sta cambiando rapidamente? o la derivata è piccola? cambia poco? appena avete una differenza del tempo dovete subito fare la derivata e userò la notazione eta punto come vedete risparmi un sacco di gesso la derivata seconda è con due punti in fisica l'eta l'eta per eccellenza la grandezza che dipende dal tempo per eccellenza è una posizione la derivata prima si chiama velocità la derivata seconda si chiama accelerazione qualche volta può succedere i meccanici certe volte hanno bisogno di calcolare la derivata terza può succedere io nella mia vita l'ho fatto solo per esercizi da studente e poi un paio di volte ho fatto negli anni un esercizio dove mi serviva la derivata terza può succedere che uno faccia la derivata terza e ci mette tre punti questa si chiama la velocità se questa è una posizione si intende questa si chiama l'accelerazione in italiano confesso in questo momento non ricordarmi come si chiama la derivata terza della posizione lo so in inglese e in inglese è jerk ok? questa è la J con il Juventus o come il mio nome jerk non mi ricordo più cosa in italiano forse la parola più vicina a jerk è strattone cioè una però questo è per cultura forse qualche meccanico in qualche corso strano avrà bisogno di calcolare il jerk il messaggio è che raramente in fisica bisogna fare più della derivata seconda raramente della terza ok? ecco perché la gente ha inventato questa notazione perché al massimo uno fa due o tre derivate è chiaro che se per qualche motivo uno deve fare la derivata settima di una grandezza questa notazione non è più molto utile perché dovete fare sette punti e c'è il rischio di sbagliare e di contarli male chi legge no? quindi questa notazione che fa cagare se dovete fare più di due o tre derivati invece in fisica dove si fanno due o tre è una notazione che la gente usa è una notazione da datilografo ok? perché ci si ferma qua? raramente qua perché? perché c'è la legge di Newton no? che dice che n per a uguale f questa è un'accelerazione ecco e lo scopo fisico è dire una volta che conosco la legge di Newton questa si chiama la legge di Newton di dire dove si trova la particella conosciuta l'accelerazione come faccio a sapere dov'è la particella? devo integrare una prima volta per avere la velocità devo conoscere la velocità iniziale poi con la velocità e con la velocità iniziale integro un'altra volta e sapendo dove era la posizione della particella inizialmente posso calcolare dove sarà in futuro d'accordo? quindi perché in fisica ci sono due derivate al massimo è perché c'è questa legge va bene quindi userò quella notazione l'ora in poi vi avevo fatto già questo discorso? non mi ricordo se l'ho già fatto qual è? se non lo faccio bene userò questa notazione allora la grandezza che dipende dal tempo qui cos'è? è l'angolo questo angolo dipende dal tempo quindi quando vado a fare la derivata del vettore posizione mi trovo di dover fare la derivata di questo r la lunghezza del filo inestensibile è costante devo fare uso della derivata del teorema della derivazione delle funzioni composte vado veloce questo è meno theta punto r seno di theta multi x a theta punto r coseno di theta multi y cos'è theta punto? è quello che noi chiamavamo la velocità angolare è un simbolo che userò però preferisco non usarlo per ora in questo contesto il simbolo che abbiamo usato e che userò in futuro è omega però non lo voglio usare in questo momento perchè nel moto circolare uniforme omega era una costante e scrivevamo omega col pedice 0 invece qua omega non è una costante quindi preferisco che lo studente quadratico medio non si confonda già da subito e preferisco usare questa notazione nuova perchè almeno lui sta attento dice ah quella è la derivata dell'angolo rispetto al tempo però se siete già convinti di aver capito che omega in questo esercizio non è costante allora nei vostri punti potete scrivere qua omega se io vi chiedo adesso di scrivere il momento a qualità di moto il momento a qualità di moto cos'è? la definizione è l è uguale a r vettor p ma sapete che questo può essere scritto così come m r vettor velocità quindi calcolatelo quindi dovete fare m per r vettor v quindi con un po' di pazienza la prima riga è r quindi avete x, y e z la x cos'è? eccola qua quindi r coseno di z z la y è r seno di z la z è 0 perchè avviene nel piano la coordinata la componente x della velocità è questa e questo qui quindi meno a theta punto r seno di z qua avete theta punto r coseno di z è 0 la velocità nella direzione z è 0 cosa vuol dire che la velocità nella direzione z è 0? vuol dire che se la z iniziale è 0 cioè inizialmente la particella che so è qui sulla lavagna quando lasciate la presa la coordinata z non cambia perchè? perché la velocità z è 0 quindi la particella rimane nel piano dobbiamo svolgere questo e dovreste essere già capaci di riconoscere che l'unica componente di L perchè questo è un vettore che è diverso da 0 è la componente z perchè qual è la componente x? come si fa a calcolare la componente x? si prende di mira il versore u di x nella prima riga quindi il versore u di x nella prima riga mentalmente si fa così e si individua la matrice 2 per 2 e si calcola il determinante e come vedete questo per questo è 0 meno questo più 0 quando fate la componente y fate così quindi questo per questo è 0 questo per questo è 0 invece quando fate la componente z avete finalmente una matrice 2 per 2 che non è banale cioè che avrà determinante di essere 0 avete questo per questo meno questo per questo quindi l'unica componente di essere 0 di L è la z che calcolate prendendo di mira questa sottomatrice 2 per 2 e il determinante è questo per questo come vedete r per r quindi avete un r quadro chiaramente c'è la m qua davanti quindi abbiamo m r quadro per cos'è in quadro? meno questo per questo qua c'è già un meno quindi quando faccio meno i prodotti così due i due neghi si annullano quindi avrò più vedete che ho qua ho dimenticato teta punto ovviamente poi ho questo e questo è la parte di L che è nella direzione z L è interamente nella direzione z ovviamente questi due addendi qua hanno il comune m r quadro e anche teta punto e ovviamente state usando il teorema fondamentale della trigonometria che dice che cos quadro più sen quadro nello stesso angolo vale 1 quindi abbiamo questo risultato qua lo lascio in su per pochi secondi poi lo cancello e trascrivo questo qua voglio rispronare un po' di spazio 5 secondi 4 3 2 1 e mezzo 1 e mezzo va bene è un conto che dovrebbe essere segnato di fare ormai non ci sono punti da prendere quando può fare quindi convinto di quella frase che ho appena detto cancello visto che abbiamo L vedete la dipendenza di L dal tempo esplicitamente dov'è la dipendenza di L dal tempo? è qua cioè questo qua dipende dal tempo nella misura in cui questo dipende dal tempo c'è qualcosa che non va? se ci sono cose che non capite chiedete bene ora o mai più? certamente non all'orale quindi visto che L dipende dal tempo cosa voglio fare? calcolare il rathion cos'è il rathion? la derivata rispetto al tempo la derivata di L rispetto al tempo come vedete devo fare la derivata di questa roba rispetto al tempo la massa della particella non dipende dal tempo almeno non è un sistema di particelle non è un sacco qua pieno di sabbia con un buco che perde sabbia eh? non è un sistema che perde particelle o che ne acquista è una di queste particelle con cui stiamo ragionando quindi questo non dipende dal tempo il filo è inestensibile quindi questo non dipende dal tempo tutta la dipendenza del tempo è solo qua quindi ho m r quadro teta due ponti la derivata seconda u di z quindi vedete che cosa c'è? non capite quello che faccio? io ho un buon motivo di credere perchè non capite quello che faccio perchè due terzi di voi non sono venuti alla lezione l'altro giorno ecco perchè non capite quello che faccio presumo che i filmati della lezione di due giorni fa siano in rete o saranno oggi quindi se non capite almeno state in silenzio e guardate la lezione di martedì d'accordo? è una cosa ragionevole che io vi chiedo state presente prima cosa a notare che L è perpendicolare alla lavagna e la derivata di L è perpendicolare alla lavagna qual è il verso di L? dipenderà dal segno algebrico di questa roba qui non vi pare? quella roba lì chiamiamo L per cortesia questa roba qua L L cos'è? è MR quadro teta punto è una funzione che ha un segno algebrico questo quando questo è positivo questo è positivo avere questo positivo cosa vuol dire? che è nella stessa direzione del versore UZ cioè avere questo positivo vuol dire che L esce dalla lavagna avere questo negativo vuol dire che L entra nella lavagna la cosa è che è chiara da questi codi che L è perpendicolare alla lavagna e ha un segno algebrico quella L senza freccia non è un modulo quello là è questa funzione qui che ha un segno algebrico questo può essere positivo o può essere negativo anche la derivata di L rispetto al tempo è perpendicolare alla lavagna e questa roba qua è una funzione che ha un segno algebrico quando questo è positivo la derivata di L esce dalla lavagna quando questo è negativo la derivata di L entra dalla lavagna chiaro? perchè U di Z l'ho cancellato U di Z esce dalla lavagna quindi Z esce dalla lavagna adesso uno dei teoremi che ogni studente deve sapere non solo enunciare ma anche dimostrare è che la derivata di L rispetto al tempo è anche uguale a R vettor F dove questo è chiamato tau dove questo qui è la F che appare nella legge fondamentale di Newton cioè che MA è uguale a F cioè questa è la F totale che agisce sulla particella e come vi ho detto l'altro giorno un po' in fretta perchè ero andato troppo veloce nella lezione avevo 20 minuti, un quarto d'ora non ricordo più e mi seccavo a buttarle via ho anticipato e forse ho parlato troppo in fretta quindi stiamo rifacendo le cose ma con più calma come vi ho detto l'altro giorno e ve lo dico ribadisco questa qua è la forza totale che agisce sulla particella e sulla particella ci sono due forze che agiscono c'è la forza peso che agirà qual'era la convenzione? forse era la ragione, non mi ricordo più forse era giallo ma altrimenti non c'era la convenzione questa rappresenta la forza peso la forza peso so che è così perchè se io prendo un corpo e la tengo fermo la mano la lascio presa e lui va giù lungo la verticale ma quando io lascio la presa se la particella è qui lui non va giù lungo la verticale perchè? perchè c'è il filo che in qualche modo lo sta trattenendo su un'orbita circolare c'è un'altra forza che agisce quindi che è la forza del filo e la forza del filo, ovviamente il filo quando è teso è dritto se lo appoggiate sul tavolo potete arrotolarlo nella forma che volete quindi il filo è solo capace di impedire che qualcosa si allontani non impedisce a qualcosa di avvicinarsi perchè il filo, no? il filo non è rigido come questo bastone che impedisce di allontanarsi ma anche di avvicinarsi un filo non farebbe così il filo funziona solo in trazione chiamiamolo così va bene? quindi la forza che sta agendo su questo corpo materiale questo è giallo? si è giallo è una forza che è in questa direzione l'ho disegnato un po' spostato solo perchè se no seppellisco la freccia blu questa qua la chiamiamo la forza del filo scusate, la forza del peso quindi scrivo spostamente del peso questa qua è la forza del filo ok? quindi la forza totale che appare qui nella legge di Newton se io vi chiedo qual è la legge di Newton? è ma uguale la forza totale e quindi qua dovete scrivere la forza peso più la forza del filo ed è la somma vettoriale di queste forze di questi vettori che sarà in quella posizione la forza e il corpo accelererà in quella direzione per il momento a me faremo fare un discorso poi questo magari lo faremo con più calma più avanti ma io sto parlando del momento questo tau per definizione r vettor forza totale la chiamiamo tau quindi quindi questo è uguale a questo per questo questo più questo r per la forza del filo questa qua la chiamiamo se volete il tau il momento torcente della forza peso questa qua la chiamiamo il momento torcente della forza del filo adesso vi chiedo quanto valgono quelle due? guardate quella del filo la forza del filo guardate la freccia gialla del filo e chiedetevi quanto è il momento torcente della forza del filo? è il vettore nullo perchè? questo vale 0 questo esercizio perchè? perchè r, la freccia blu e la freccia gialla non sono storti per avere un momento torcente diverso dal vettore nullo serve che i due vettori che state moltiplicando siano storti devono individuare un piano questi due non individuano un piano questi due non individuano un piano questi individuano un piano quale piano? questa qua quale piano? questa qua quale piano? questa qua quale piano? ce ne sono infinità quindi non individuo un piano quindi vedete che la forza del filo non ha un momento torcente rispetto all'origine questa espressione l'ho usata un altro giorno ma adesso a furia di dirlo mi comincio a infigrirmi ed è bene che io devo stare attento qua perchè siete voi che state cercando di imparare questo è il momento torcente quindi la parola è questa qua o questa è la stessa cosa questo è il momento torcente della forza totale rispetto all'origine è perchè io lo sto calcolando usando il vettore posizione quindi il momento torcente della forza del filo rispetto a questo punto è zero invece il momento torcente di questa forza rispetto all'origine non è zero certo che solo una parte della forza peso è storta non vi pare? quindi piuttosto di rovinare questo disegno lo rifaccio di qua brevemente questo è il mio traiettore circolare questo è il vettore posizione della particella che è qui e qua ho la forza peso quindi voglio fare un disegno che riguarda la forza peso la forza peso adesso io la scompongo in due direzioni una direzione che salta subito all'occhio qual'è? è quella della direzione del filo questa qua è una direzione perchè lo sto disegnando in blu non ha importanza quella è una direzione che salta subito all'occhio siccome vogliamo usare Pitagora avendo una direzione voi dovete scegliere per invocare Pitagora una direzione ortogonale a questa e quindi la direzione ortogonale è questa qua questa voleva essere tangente mi sta riuscendo male questa è la direzione tangente questa è la direzione la parola è normale questa è la direzione normale questa qua e questa è la direzione tangenziale normale vuol dire a 90 gradi rispetto alla tangenziale d'accordo? quindi se volete la particella qui si muoverà il vettore velocità sarà lungo la direzione tangenziale e per invocare Pitagora scegliete la direzione normale alla tangenziale d'accordo? con queste due direzioni scomponete la freccia gialla la freccia della forza peso quindi avete questa parte della forza peso che è nella direzione normale e avete questa parte della forza peso che è nella direzione tangenziale quindi la forza peso si scompone non lo voglio neanche fare è abbastanza evidente che se questo è l'angolo dov'è l'angolo qua? questo è l'angolo eccolo qua non vi pare? oppure eccolo qua questo è un angolo qui l'angolo a cui si trova la particella misurata dalla verticale perché la verticale è la direzione speciale ecco qua gli angoli quindi se questa qua è la forza peso questo cos'è? è coseno la forza peso invece questo è seno la forza peso d'accordo? quindi se io scrivo una cosa del genere che la forza peso uso la scomposizione cartesiana quindi questa l'abbiamo chiamato l'asse x questo era l'asse y allora la forza peso che è nella direzione x come la scriverò? la scriverò così forza peso u di x dove questa roba qua non è un modulo uno potrebbe dire non ha la freccia sopra sarà un modulo? no! è quella funzione che descrive in maniera corretta il verso della freccia ok? di fatto è una funzione positiva in questo caso va verso il basso questa quant'è? questa parte qua se io vi chiedo qual'è la funzione che descrive questa questa qua è la forza peso facciamo così forza peso coseno di teta questa qua nella direzione chiamiamola normale anzi facciamo la cosa che colore posso usare? arancione? cosa stiamo immaginando? l'altro giorno avevo immaginato che la particella stava muovendo in senso... tanto per fissare le idee perché voglio dare un... siccome sto dicendo che la direzione di L dipende dal segno algebrico di questo allora fissiamo le idee cosa stiamo immaginando? mi pare che l'altro giorno avevo immaginato che la particella stesse girando in senso orario giusto? quindi immaginate che la particella sta girando in senso orario quindi il senso orario cosa vuol dire? che teta punto è negativo non vi pare? che al passare inesorabile del tempo il tempo avanza l'angolo sta diminuendo quindi la derivata l'angolo sta diventando se era qua poi è qua poi è qua l'angolo sta diminuendo la derivata è negativa quindi con la derivata negativa la vostra L sta facendo cosa? sta entrando nella lavagna giusto? perché questo sarebbe negativo ecco qua questo sarebbe negativo quindi se io vi chiedessi con la moto in questo modo e disegnare la velocità voi disegnereste una freccia che è nella direzione tangenziale sì la velocità è sempre tangente alla traiettoria quindi voi cosa fate? nel vostro punto individuate la retta che è tangente poi dovete decidere qual è la direzione della freccia velocità è di là o di qua siccome sta muovendo così voi disegnerete la vostra vettore velocità che so così quindi attenzione in blu è una freccia posizione in arancione è una freccia velocità e in giallo sono frecce forze sono vettori con dimensioni diverse va bene? d'accordo? quindi la freccia arancione individua la direzione tangenziale questa direzione qua è la direzione normale vabbè, voglio tornare là non voglio andare per la tangente abbiamo un altro macaco stamattina eh? quindi quanto è questo qua? se io vi chiedessi il modulo di questo cioè se io vi chiedo qual è il modulo della forza peso cosa scrivereste? solo questa parte della forza peso contribuisce al momento torcente non vi pare? perchè questo la contribuisce? perchè è parallelo a R e questa parte quant'è? quindi il modulo sarebbe il valore assoluto di questa funzione forza peso per il giallo dell'angolo ovviamente nella prossima ora cominceremo a parlare della forza peso alcuni di voi forse sanno cosa scrivere qua ma voglio fare un discorso per lui va bene, torno qua è questo che mi preme cancello questo anzi non lo cancello del tutto perchè sto calcolando tau adesso sto calcolando questo quanto è? siccome questo qui è semplicemente uguale a R il vettore della forza peso allora questo è uguale cosa scrivo qua? R cos'è R? R coseno teta R seno di teta zero qua devo scrivere adesso il vettore F ma il vettore F ho detto che era puramente nella direzione dove l'ho scritto eccolo qua quindi questo è F peso metto P invece di P vabbè dai peso a zero zero di nuovo qual è la componente la direzione di tau? cosa è tau? di nuovo di nuovo l'unica componente di tau che deve essere zero lascio a voi convincervi è la direzione è la v di z quindi ho individuo questa sottomatrice questo per questo è zero meno questo per questo quindi questo è uguale a nella v di z ok? come vedete tau è il momento attorcente solo di questo pezzo vedete? Fp seno di teta moltiplicato per R che è la lunghezza del filo ci siamo? guardate tau adesso la riscrivo qua giù perchè ho L questo e scriverò anche tau qua ok? e queste due sono uguali sono uguali perchè? perchè c'è la legge queste qua sono uguali anzi lo scrivo così va quindi questo è tau questo è la derivata di L rispetto al tempo e sono uguali per il teorema che conoscete tutti ok? tau è perpendicolare alla lavagna c'è il seno di teta che manca c'è il segno meno anche perché questo per questo meno questo per questo perché c'è un segno meno correggetemi se no ho scrivo delle cose quindi questo è meno e meno la forza peso f peso r seno di teta u di z ok? perchè ho questo per questo meno questo per questo quindi ho meno f peso r seno di teta u di z ci siamo? e qua sono uguali allora guardate tau qual è la direzione di tau? è perpendicolare alla lavagna qual è il verso di tau? il verso di tau dipende dall'angolo in che modo? quando l'angolo è positivo quindi se questo è il vostro cerchio unitario è la stessa cosa semplicemente sto per disegnare il cerchio unitario con la stessa convenzione questo è l'asse x che sarebbe verso il basso quindi questo è verso il basso nel nostro esercizio questo è l'asse y questo è un cerchio unitario trichonometria questo è l'angolo quando l'angolo è positivo il seno che segna il algebraico ha? ovviamente in questo esercizio del pendolo l'angolo è compreso da 0 a pi greco mezzi qua c'è il soffitto qua su quindi a noi interessa questo angolo qui cioè questo è l'intervallo degli angoli che è pertinente all'esercizio questo è l'intervallo degli angoli qua girate da quella frase a noi interessa questi angoli qui, no? guardate quindi il cerchio unitario con gli angoli che sono pertinenti al moto del pendolo che è quelli che ho tratteggiato in bianco o in bianco il grassetto e guardate come il segno algebrico di seno di teta, che è questa roba qua dipende dall'angolo quando l'angolo è qua, cioè a destra il seno è positivo e quindi il momento attorcente è negativo perché c'è questo segno quindi quando la particella è di là il momento attorcente entra nella lavagna invece quando la particella è a sinistra la verticale, quindi mi trovo qua giù con angoli negativi il seno di un angolo negativo è negativo e quindi questo negativo, questo regalcicla e avete qualcosa di positivo quindi quando è di qua il tau esce dalla lavagna meditate su questo disegno facciamo una breve pausa e poi nella prossima ora voglio cambiare un attimo il discorso perché questo deve diventare un attimo e voglio parlarvi della forza peso perché voglio scrivere qualcosa esplicitamente qua e non F peso ma prima di mollarvi un attimo voglio che voi meditate su questo questo voglio trascriverlo questo è quello che ho nella direzione z cioè perpendicolare alla lavagna ho quella equazione vedete che questa equazione è interamente nella direzione z la vedete? quindi io sto sostenendo che nella direzione z è uguale a meno F peso R seno di teta cioè questa è l'equazione per il momento finché non dico qualcosa su questo questa è l'equazione del pendolo semplice è un'equazione nella direzione z nella direzione z e se vi fermate a pensare guardate come io potrei scrivere la stessa cosa con un linguaggio un pochettino più generalizzato che è questo che abbiamo chiamato questa funzione L vi ricordate? cos'era L? era questa cosa qua perché il mio vettore L è nella direzione z io guardo questa funzione L quindi tutto questo può essere scritto così come la derivata della funzione L rispetto al tempo è uguale a questa roba qui potrei anche chiamare questo il momento attorcente nella direzione z però adesso fermiamoci brevemente perché devo dire qualcosa ormai qua non posso scrivere subito cos'è perché devo presumere che tra voi c'è gente che non ha mai visto un corso di fisica in vita sua va bene? facciamo un 10 minuti di mano